L'ingegnere Lanfranco Legnani, 73 anni, sino al 2009 è stato il direttore Ombra dello stabilimento Ilva di Taranto. Al vertice di una struttura piramidale, un management occulto composto in gran parte da tecnici non inclusi nell'organigramma dell'azienda, diversi consulenti esterni, alcuni dipendenti della capofila Riva, tutti i fedelissimi della famiglia Riva. La struttura Ombra non ha mai smesso di operare neppure dopo gli arresti dei dirigenti putativi dell'Ilva e dei veri padroni. La famiglia Riva non ha smesso di operare neppure con la nomina del prefetto Ferrante alla presenza dell'Ilva. Lo hanno accertato i finanziari del nucleo di polizia tributaria di Taranto. Relazioni, interrogatori e intercettazioni sono confluite nell'ordinanza del GIP Patrizia Todisco. Confermate cinque richieste di custodia cautelare, arresti domiciliari del direttore Ombra, l'ingegnere Lanfranco Legnani a 73 anni, custodia in carcere per gli altri quattro, spicca il nome di Alfredo Ceriani, direttore Ombra dell'area a caldo dell'Ilva, quella dalla quale si sprigionano gli elementi contaminanti e talvolta benefici, quella incriminata dall'inchiesta madre, l'accusa e di associazione ai fini del disastro ambientale. Su produzione appalti, l'ultima parola, se non l'unica, aspettava sempre ai fiduciari della famiglia Riva, non ai tecnici formalmente inseriti nell'organigramma dell'Ilva, soprattutto quando c'era il rischio di fumi nocivi o emissioni inquinanti. Alfredo Ceriani, direttore Ombra dell'area a caldo, intercettato al telefono con Fabio Riva, parla di procedure tecniche irrituali e ghisa, farà un fumaccio, dice e ride. Fabio Riva interloquisce e gli dice ok. Ceriani insiste sulla necessità di non far capire nulla ai lavoratori perché, se sanno, è finita. Viene fuori un casino che non finisce più, infatti non finisce qui. Chiuse formalmente le indagini acquisite e le contradduzioni della difesa, la procura è pronta a chiedere l'invio giudizio per Fabio Riva, la sua dinastia, i suoi collaboratori, manifesti e occulti. Con 9.000 malati di tumore a Taranto, no, non può finire qui.